La presenza di animali selvatici nelle aree urbane e la loro diffusione controllata causa gravi incidenti stradali e danni ingenti alle aziende agricole. È il grido di allarme di Confagricoltura che pone la necessità di risolvere il problema con un programma condiviso ed efficace, soprattutto considerando l'aumento dei casi di cronaca, morti sulle strade e attacche agli allevamenti nelle campagne. Lo confermano anche i numeri. Solo i cinghiali, ad esempio nel nostro paese, sono passati da 900 mila nel 2010 a quasi 2 milioni nel 2020, con un aumento del 111%. Inoltre la peste suina africana, scoppiata in Germania, preoccupa gli allevatori europei che chiedono maggiori controlli per evitare che il virus si diffonda ulteriormente. Accogliamo con favore l'annuncio della ministra Bellanova di un decreto d'urgenza sulla vicenda, afferma Confagricoltura. Auspichiamo interventi tempestivi ed efficaci, poiché la peste suina africana rappresenta un pericolo di dimensioni enormi. Anche gli attacchi dei lupi alle mandrie sono sempre più frequenti, a conferma che la specie non è sotto controllo. Per gli agricoltori lavorare richiede coraggio su tutti i fronti, in primis quello economico. Chiediamo che la questione sia trattata urgentemente e rivolgiamo un appello al governo e alle istituzioni per la difesa e la salvaguardia del territorio con azioni mirate e decise. Conclude l'organizzazione.